Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi è la seconda settimana di allenamento, ovviamente faremo petto e addominali, ragazzi, pancappiano. Settimana scorsa cominciavamo con 20 kg per 20 ripetizioni ovviamente, questa settimana ragazzi cominciamo con 26 kg, ovvero 6 kg in più, fino ad arrivare a 56 kg. Ovviamente prima ci pesiamo e poi partiamo con la prima serie. Ragazzi, peso 56 kg e 80 kg, grassa corporea 10,4 kg ragazzi. Cominciamo con la prima serie ragazzi. Cominciamo con la prima serie. Cominciamo con il dito, molto peso. Ragazzi, seconda serie, 36 kg. Ok ragazzi, questa diciamo si è sentita il giusto. Però ancora andiamo al massimo. Terza serie ragazzi, 10 Hz, 46 kg. Siamo quasi ai 50 della nostra scorsa che ne ho atteggiato. Ragazzi, ovviamente, leggero. Adesso faremo la quarta e ultima serie con 56 kg. Siamo quasi al peso del mio attuale squat. 56 kg. Il mio squat è arrivato a 60 fino ad ora. 5 reps. Vediamo se non ci rimaniamo sotto. Ragazzi, finalmente ho trovato un peso. Che si sente. 56 kg si sono sentiti tutti. Adesso, secondo esercizio. Eccoci qua ragazzi. Secondo esercizio. Panna indirinata. Ovviamente. Mettiamo la scorsa 40 kg. Panna 42 kg. Mettiamo anche qui. Faremo sempre tre serie per otto. Ragazzi. Voi ne dovete sempre una perché normalmente lo ripeto più. E partiamo. Ok ragazzi. Prima serie è andata bene. Si è sentita. Non tantissimo però si è sentita. Ci vediamo direttamente al prossimo esercizio. Panna debbinata. Ovviamente anche qui tre serie per 10 ripetizioni. 8 veramente 10. Vole uguale. 42 kg sempre. Partiamo con la prima serie. Ragazzi ovviamente mettete solo queste serie. Perché ne farò altre due uguali. Ragazzi ci vediamo nel prossimo esercizio. Qualche quarto esercizio. Apertura i cavi bassi. Ovviamente sempre 50 kg. Come la settimana scorsa. Perché questo esercizio non è poi così tanto leggero. Con gli elastici. Partiamo con la prima serie. Ovviamente vedete solo questa. per 10 ripetizioni. Per 10 ripetizioni. con me la settimana scorsa. Cominciamo con la prima serie. Prima serie. andata ovviamente adesso panca piano. ok ragazzi ovviamente andata non semplicissimo. perché il peso su panca piano è più... si sente di più. Adesso panca inclinata la più dura. Facciamo queste ustime 10 reps. e poi addominati. E poi addominati. Ufff. 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 ovviamente ragazzi si sono sentiti e come adesso facciamo gli addominali ovviamente tre per venti di crunch, partiamo con i crunch ragazzi grazie a tutti crunch parti adesso, crunch laterale crunch laterale crunch laterale crunch laterale crunch laterale direi che può bastare così adesso passiamo agli addominali bassi gli addominali bassi, eccoci qua le raises da seduti cominciamo con l'ottima serie crunch laterale crunch laterale crunch laterale crunch laterale crunch laterale vagui eccoci qua passiamo super 악 Är tripareli ecccoi 18 allenamento terminato finalmente adesso check fisico iscriviti al canale